Ciao, tutti. Il mio nome è Z Your Tour Animator. Sono qui per darti la visualizzazione di Full Data Mahal e Agratur D'Adele con Express Train. Quindi, cominciamo. Controlla la tua email un'ora prima del ritiro. Hai ricevuto il numero di auto da Kiberlandwi. Vai alla reception dell'hotel alle 7 e chiedi la tua auto. Il conducente deve essere in attesa al cancello. Partenza dall'hotel per scendere alla stazione ferroviaria. Il tuo autista ti assisterà con il numero di posto e non partirà finché non ti farà sentire a tuo agio. Goditi un meraviglioso viaggio in treno di 90 minuti con colazione a bordo del treno. Una volta raggiunto, vai all'uscita. Incontra il tuo autista e guida tenendo il cartello del tuo nome alla stazione ferroviaria. Accomodati in auto con aria condizionata e inizia ora il tour visitando il Tad Mahal. Chiedi alla tua guida di scattare le migliori foto degne di Instagram incorniciate da un'architettura simmetrica e viste mozzafiato. Più tardi, dirigiti verso il vicino altro patrimonio mondiale dell'UNESCO, il Forte di Agra, costruito nel 1565 e un'altra maestosa creazione dell'impero Mughal. Dopo questo tour del Forte di Agra, goditi una pausa pranzo. Infine visita a Baby Taj, noto come Jewel Box of Agra e la prima struttura Mughal costruita completamente in marmo. Intorno alle 17 e 45 partono per la stazione ferroviaria di Agra, il tuo autista ti assisterà con il numero di posto. Goditi la cena a bordo del treno. Quando arrivi a Delhi, esci dal treno allo stand sulla piattaforma, otterrai l'autista sulla piattaforma. Ti riporterà nella posizione desiderata a Delhi. Ora sentiamo alcune informazioni importanti. Per prenotare i biglietti del treno, abbiamo bisogno del tuo nome completo, sesso e data di nascita. I posti in treno vengono assegnati dal Dipartimento Ferroviario sei ore prima della partenza del treno e non è consentito selezionare o apportare alcuna modifica. È possibile scegliere un treno vegetariano o non vegetariano a bordo durante la colazione e la cena, chiedi alla tua hostess del treno. Per il prelievo all'aeroporto, non dimenticare di scrivere il numero del tuo volo durante la prenotazione. Quindi, possiamo dirti il punto e l'ora dell'incontro. Evitare hawkers e pedalers mentre si cammina. Prenota il tour e goditi il viaggio memorabile. Grazie per la visione. Iscriviti a questo canale e non dimenticare di premere l'icona a forma di campana per l'ultimo aggiornamento del viaggio.